Attenzione a Parisi sulla faccia sinistra Parisi mette dentro per Meggiorini il velo Attenzione dentro l'area Kutuzov Kutuzov salta Mirante La porta è vuota Ma c'è un miracolo sulla linea Stratosferico intervento di Antonelli Zemaili Morrone Boginov si libera ancora con un guizzo Gol fantastico di Boginov 1-0 Parma Una meraviglia Una meraviglia di Boginov Che grande gol Un gol meraviglioso Per come se l'è preparato E per la precisione con quale ha battuto Gile Ancora Castellini Cross dentro Paloschi Prova ad arpionare Paloschi destro 2-0 Paloschi 2-0 Un gran gol Quello di Paloschi Voglio vedere come ha fatto a dare al 7 Ma che gol stiamo vedendo Dei capolavori Io credo che non ci sia deviazione Sia proprio l'intenzione del giocatore Ad andare a pescare l'angolo lungo Li vediamo Marco Mamma mia Mamma mia che gol Grazie Grazie